di immigrazione oppure non per niente? Penso che tutto influisce perché le persone a Venezia sono molto documentate, devo dire che la campagna elettorale è stata molto combattuta, molto discussa, voi l'avete seguita, i temi sono stati veramente toccati, il mio programma l'abbiamo fatto io, sono 83 giorni che faccio politica, l'abbiamo fatto con migliaia di cartoline, di telefonate, centinaia di incontri con i cittadini. Io non ho mai chiesto a questi cittadini che origine ideologica avessero, ho soltanto cercato di raccogliere quelle che hanno le necessità reali partendo dal presupposto che le persone devono vivere del proprio lavoro, la dignità delle persone nasce dal lavoro, è il primo articolo della Costituzione.